Buonasera a tutti da Trombon questo è il mio primo videogameplay su Amnesia The Dark Descent piccolo aprendizgioco fantastico questo gameplay sarà incentrato su una custom story Stefano's House consigliatemi da un amico ora, due note prima di cominciare primo, scusate per la qualità dell'audio è il primo video e cercherò con l'andare avanti nel tempo di migliorarla secondo, essendo un commento live potrebbe scapparmi qualche saranno voi non fateci caso bene, io sono pronti a cominciare eh no, però, subito dammi un attimo, perché non posso subito no, eh no, ah, mi piace cos'è? dove sei? già qui, ce l'ho subito qui com'è stato? wow, Piggy ciao Piggy pronti a partire ma, comunque ma che Stefano, Stefano, Stefano oh, 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 no, 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 come è stato, come è stato? ma che cazzo? ma che cazzo? ma che cazzo? no, ma è qui dietro? ma è un, è un stato ah, è buggato lol, no, 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 è buggato è buggato no, 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 no ma molto lol guardato, è buggato ed era pure un'allusinazione beh, che ma, vabbè Quindi Due notti Vabbè, scusatemi le notti Mi interessano davvero relativamente Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ah, ti ho beccato subito Un po' Ah, eccoti qua Queste cose Io non le sopporto Jesus, Jesus Christ No È sparito Gesù Bene, giriamo con la Bibbia Sì Poteva avere la Bibbia con me Oh, yeah Sì, no Un momento, che succede? Oh, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Oh, basta, 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 basta Oh, fermo, 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 fermo Fermati, fermati, fermati Oh, my God Una testa Un'altra nota Eh, wow. Andiamo. Io e la mia fidata bibbia. Continuiamo. Pottiamo la porta. Pottiamo la porta. Ah già, la chiama. Prendiamo la chiama. Viva. Stefano. Anno. Anno. No. 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 Ma che... come ti permetti? Mi gioco le palle quella chiave di dentro. No, no. No, ti prego, no. Cos'è? È la mucca che fa mucca? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Non lo avresti. È un mucca lì penumbra. Bello. Che gusto. Ok. bella roba c'è schifo finestra, finestra, finestra oh, eccola chiave se c'è una chiave ci sarà anche una porta no amm? ah, eccola infatti no quindi ora… cos'è... no, 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 no che cazzo è stato? come ho fatto con un salto leggendo? non!!! non importa Cazzo, cazzo, cazzo Cazzo Ma quel bossato non è uscito? Ah, ti pippa il culo, eh Ti pippa il culo A uscire, eh Oh, 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 oh Oh, non volevo dirti questo, non volevo dirti questo No, 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 cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Oddio, oddio No, no, ti prego No, no Ti prego no Stai lontano Stai lontano Ok 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 No, no, no No, no, no No, no, no Qua, 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 qua No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ti prego Basta Senti Vabbè, però io come cacchio arrivo là giù Questo Questo Oh, oh Momento Oh, oh, oh Porca puttana Oh, signore Oh, mamma mia No No Che spawn di merda Vabbè Quel fottuto Ahah Sì Potere della Bibbia è con me Adesso vini fuori, eh, bastardo C'ho la Bibbia, sono intoccabile Avanti, dai, bastardone Vini fuori Ah, non ci sei più, eh Ah, bastardo Però che flash, ragazzi C'è Ci sono rimasto troppo male Ah, ecco cosa aveva testa, eh Eh, no, 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 no Omg Lol Come è possibile una cosa del genere? Non lo so Ma contento lui Comunque mi aspettavo qualcosa di più da questa custom story, sinceramente Cioè, non che sia brutta, però Sì, a parte quel mostro di merda Non tante emozioni Almeno fino adesso Ok, porta chiusa Bah, arrivi Quindi UUUUUUH Mi ha messo il culo in faccia Raffa di incivile Ma è affanculo Gay Ma che Bastardo Yeah, yeah Figlio di tua madre Oh, signore Ecco Va bene Yeah, yeah Stefano, Ano, Ano, Ano Oh, dei corridoi Succede sempre qualcosa nei corridoi Ma sempre Ecco Appena detto No Stronzo No Ma io mi perdo Questi posti qua Cioè Io odio Questi posti Non ti annuncia assolutamente niente di buono Ma d'altronde Oddio Mamma mia Che schifo Io c'ho paura Io c'ho paura di aprire sta cosa Comunque, vabbè Uff, che Cos'è? No Cos'è sta roba? Uh, questo mi piace Ma dai Cos'è sto schifo? Calati, bastardo Devo uscire Oh no Lasciami chiudere la porta Stammo lì, bastardo Ok, adesso abbiamo un ago cavo Che di solito serve ad aprire porte Quindi una porta nei paraggi ci sarà Quella in fondo e questa qua Vediamo un po' Mmm Vediamo già con questa Bella lì Ah Cosa, troviamo qui? Uh Ciao, bene Come stai? Fuck you Ehm, già Niente Dobbiamo trovare un'altra chiave Scommento perché la porta nel fondo è chiusa Mmm Magari qui Ah No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Oh mio Dio me l'ha messo nell'armadio Nell'armadio me l'ha messo E c'era la chiave di venire proprio vista Era nell'armadio Perché No, 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 no Stai contando, stai contando, stai contando Perché quel bastardo Non mi sono negato a dire Io la chiave non la posso vivere Mio Dio Mio Dio Ok Adesso, 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 adesso Mi vado Cazzo, 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 cazzo La chiave, la chiave, la chiave Corri via, corri via, corri via Corri via Qui c'era lui Di qua, di qua, di qua, di qua Porta, 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 porta Non c'è, non c'è No, non, non, come no, come no, come no Ah, ecco Ok, ok Chiudi la porta Chiudi la porta No, candela No, ti prego no Cioè, veramente Cioè, mi ha messo un fottio di armadie E io, dopo l'esperienza precedente, non aprirò mai più un armadio in vita mia Quindi, può proprio fotterti Ma, fotterti Io non lo aprirò mai Non lo aprirò mai Ma neanche uno di questi Via, anzi, comincio a correre Via, 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 via Saranno uccide, saranno uccide Ah, eh What? Che? Troll face? Ok, amico, spostati perché Mi blocchi il passaggio Devo aprire la porta Cavati, cavati, cavati Che schifo Cavati, cavati Bravo, bravo No, 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 no Non puoi farmi questo Perché? Oh, che cacchio è quello? Lol Non puoi farmi questo Serve una chiave Io gioco Mi gioco i meroni Che è dentro Non di questi armadie E mi tocca Mi toccherà aprirli uno per uno Prima di... Oddio Oh, signore Oh, signore Oh, no Mamma mia Aiuto 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 Oh, ah, ah Eccola qua Via da questo posto Via Subito Via, via, via Via, via Via Apri 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 Ah, bella lì Dai Una nota Quindi Oh Stefano Ah, Stefano, Stefano Ehi, Stefano, Stefano Allora Quindi Ora che si fa Ok È finita qui, quindi Sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio Però comunque ha qualche buon colpo di scena Però niente di che Ho visto Ho cercato davvero di meglio Però Insomma Questo è stato il mio primo videogameplay Continuerò a farne altri Su altre custom stories Perciò Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a io Ciao Ciao a tutti